ciao a tutti bentornati e bentornate sul canale proprio oggi è stata rilasciata da apple la versione di ios 17 beta in questo video vediamo quali passi seguire prima di installarla e la installeremo la prima cosa che dobbiamo fare è il backup dell'iphone quindi andiamo nell'iphone e realizziamo il backup su iCloud oppure tramite iTunes o sul pc dopodiché se non l'abbiamo ancora fatto andiamo a iscriverci al programma sviluppatori di apple beta non dovremo pagare nulla in questo caso perché la beta è pubblica ma dovremo essere registrati come sviluppatori come tester ok quindi una volta iscritto il nostro account e andando a inserire tutte le credenziali dell'id apple potremo accedere allo scaricamento delle versioni beta direttamente dal menu ora sarà abbastanza semplice ricevere gli aggiornamenti delle versioni beta che verranno rilasciate da qui in avanti in maniera pubblica quindi apriamo gli aggiornamenti beta e scegliamo quale versione beta installare sul nostro dispositivo in questo caso ios 17 public beta clicchiamo su download e iniziamo lo scaricamento ovviamente l'iphone dovrà essere preparato quindi si riavvierà più volte una volta terminata la procedura avremmo installato il nostro sistema operativo ios 17 beta che attenzione avrà sicuramente qualche bug ma sarà utilizzabile rispetto alle versioni di sviluppatore che di solito contengono diversi errori di sistema operativo noi ci vediamo nel prossimo video a presto